Grillo all'attacco a Palermo, la mafia è stata corrotta dalla finanza, prima aveva una sua condotta morale e non scioglieva i bambini nell'acido. Così il leader del Movimento 5 Stelle durante il comizio per lo sfiducia dei nei confronti del governatore Crocetta davanti al Parlamento siciliano. Sentiamo questo passaggio. La mafia è stata corrotta dalla finanza, la mafia non metteva bombe nei musei o uccideva i bambini nell'acido, la mafia aveva una sua morale, chiamiamola una sua morale, non c'è più niente, è stata corrotta dalla finanza, dai soldi, dalle multinazionali, dagli affari. E dov'è oggi? Cos'è oggi un'associazione a delinquere? Ditemi che cos'è un'associazione a delinquere, sciolto un comune per l'associazione a delinquere. Da chi è formata l'associazione a delinquere? Chi c'è? Quello con l'unghia o Torino la ingoiatica, l'unghia lunga che dice la menga, la menga, la menga, la menga? Ancora a queste cose pensate? Che cos'è oggi un'associazione a delinquere? Da chi è formata l'associazione a delinquere? Ve lo dico io, da un uomo d'affari. Oggi tra un uomo d'affari e un mafioso non c'è quasi nessuna differenza. L'unica differenza è che il mafioso sa che è fuori legge, mentre l'imprenditore, il grande uomo di affari, si assolve perché è dentro il sistema che gli permette quelle cose lì. Chi c'è dentro questa associazione? Un uomo d'affari, un politico, un banchiere, un notario, un commercialista, un poliziotto e un magistrato. A volte non c'è neanche il delinquente nell'associazione a delinquere.